Un saluto a tutti gli attori di TecnoYout, ci troviamo in compagnia del nostro classico Asus Transformer 101 e siamo qui per mostrarvi il corretto funzionamento del trucco relativo al gioco GT Racing 2. Dopo lungo tempo siamo riusciti a trovare un trucco perfettamente funzionante e vi mostriamo come. Il gioco si presenta direttamente in lingua giapponese e unicamente dopo aver completato le gare del tutorial possiamo modificare la lingua al nostro piacimento. Noi già abbiamo effettuato il tutorial, adesso vi mostriamo anche come cambiare la lingua. Come potete notare già dal menu, questo è dopo aver effettuato appunto il tutorial, le monete, il denaro è tutto infinito, abbiamo trasformato in lingua italiana. Dopo aver effettuato la prima gara ci troveremo davanti a questa schermata, andiamo in basso a sinistra, cambiiamo qui sulla nuvoletta, la lingua era coreano, giapponese, una simile e cambiatela in italiano. Successivamente quindi potete acquistare tutto quello che volete, andate per esempio all'interno del negozio e vediamo se possiamo acquistare direttamente le macchine più auto, le macchine più forti, queste sono quelle speciali che noi possiamo comprare, possiamo comprare però quelle più forti in assoluto. La Lamborghini l'abbiamo acquistata, la potenziamo, compriamo anche tutto. e come vedete funziona tutto in maniera perfetta. Così potete godervi il gioco come meglio credete senza dover spendere molto denaro reale. Per il momento da Dario è tutto, un saluto per TecnoYout, alla prossima. Ciao a tutti!